Ciao! Oggi facciamo del cavolo cappuccio arrosto con aglio. Andiamo a tagliare a fette di circa un centimetro. Dopo aver messo le fette su una teglia, andiamo ad aggiungere dell'olio. Con un pennellino lo uniformiamo su tutte le fette. All'olio delle fette andremo ad aggiungere aglio, sale e beppe. Ora le giriamo e facciamo la stessa procedura. Ora che sono ben condite le informiamo a 200 gradi. Tramite i minuti le tiriamo fuori e le capovolgiamo. A tra poco! Bene, i primi 20 minuti sono passati. Togliamolo dal forno. Andiamo a capovolgere ogni fette. E rimettiamo tutto in forno. Sono passati i 20 minuti da quell'ultima volta che le abbiamo girate. Andiamo a toglierle. È normale che qualche striscia che si sia staccata dal gruppo si sia un po' bruciata. Questa ovviamente è scartata. Il resto sarà squisito. Buon appetito!